benvenuti su canale 93 nel canale youtube di vittorio cassinesi e la banda di matti e passiamo a fare il controllo del sangue silenzio vado vai buongiorno benvenuti su canale 93 sul canale youtube con vittorio cassinesi e la banda di matti ma passiamo a questa piccola presentazione iniziando dal nostro direttore il nostro vittorio cassinesi come sto come sto sto bene 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 sono elegante sono sbarbato bello fettinato perfetto benvenuti a tutti quanti voi video youtube di canale 93 vittorio cassinesi mi sto guardando attorno perché qui abbiamo il nostro principe super rappresentato venga qui è meglio che sta lì è meglio che sta lì poi abbiamo il nostro attilio eccolo qua questo appigliamento dove l'ha preso 5 centesimi 22 centesimi l'ospite buongiorno venga qui venga qui principe venga principe ma vittorio c'è una sorpresa vero raffaele che cos'è questa cosa che vedo è una gonfia qua per caso la vuoi vedere ti sei ingrassato a trani non ce li sono allora che succede pronti attenzione allora piano vedete un po' vai c comple dobbiamo trekettino oggi uno dei miei viaggi che è vero raffaele facciamo la verità uno dei miei viaggi che ho fatto a new york l'ho portata a un bel regalo a raffaele non fare vento che sta malato attilio attilio vieni devo fare una foto con il nostro americano tieni così puoi commentare il modello di aggancio che è metà in metà sembrava una cravatta tipo batman dobbiamo riaggiungere la raggiustiamo per piacere ottimo ma mi sembra una cravatta nera da funerale con New York forse qualche moto da New York si è andata a trovare però non si legge si legge New Pork signori guardate cari amici guardate che giusta misura proprio non è che poi ti pensa no 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 attenzione è per vedere New York c'era scritto New York è scritto è scritto New York qua si 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 vede si vede principe com'è scritto venga 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 venghi qui venghi 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 attenzione aspetta aspetta dobbiamo fare un sa fare no io chiedo scusa ma mi devo allontanare aspetta aspetta un noto in diretta un noto in diretta allora bisogna prendere la misura qua si attenta la statua dovrà finire attenzione si fa così poi si fa un giro qua così poi si fa l'altro giro di qua e si mette così no quelli piccoli non mi piacciono questo non è il piccolo no questo è un noto grande questo è un noto grande proprio guardi guarda attenzione sì attenzione noto in diretta attenzione riprendete tutto perché il noto in diretta del contrario ripetiamo ripetiamo ci vuole la pratica domenica un attimo un attimo un attimo principe sta venendo sta venendo il nodo in diretta attenzione attenzione combina questo bravo ragazzo nodo in diretta con la scritta New York con la nostra camicia western guardi che nodo completo ha il nodo a triangolo si chiama questo guardi principe quello è un turaccio è un triangolo non è adatto guardi attenzione riprende tutto da sopra sotto com'è Vittorio da sopra da sopra sotto guardi è proprio la misura esatta perfetto grazie noi vi lasciamo grazie a tutti quanti voi alla prossima occasione banda di batti Vittorio Cassini ciao 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 aspetta aspetta Attilio dimmi ecco era lui saluta ciao a tutti ieri a lei sono 100 vetrine detto attilio